Nella sede della Fondazione Banca Popolare di Lodi è stata ufficializzata la nascita di una nuova fondazione, la Casa della Comunità, è presieduta da Paolo Landis. Di che cosa si tratta? È una fondazione di partecipazione, è un istituto un po' originale, conosciuto da pochi, è una fondazione che coniuga la caratteristica delle fondazioni, cioè quella di avere un patrimonio, con le caratteristiche di un'associazione di volontariato, cioè quella di avere risorse umane che prestano attività volontaristica. La Fondazione Casa della Comunità mette insieme un patrimonio grazie al contributo della Fondazione Cariplo e della Regione Lombardia per il quale abbiamo vinto un bando emblematico l'anno scorso. Questo patrimonio è unito alla convergenza di 5 per adesso enti che sono soci fondatori della Fondazione che prestano la loro attività di volontariato. C'è l'associazione del progetto insieme, la cooperativa Famiglia Nuova, Movimento Lotta Fammi nel Mondo, l'associazione Emmaus che è il braccio operativo della Caritas, quindi la Caritas Laudense e la fondazione BPL. I filoni sono 4, che sono il filone alimentare, abitativo, lavorativo e formativo ed educativo. Il primo filone è quello alimentare, quello che stiamo portando avanti un mai da tempo prima della nascita della Fondazione attraverso il Centro di raccolta solidale per il diritto al cibo, che confluisce dentro la fondazione come attività e che si evolverà diventando emporio solidale. Troverà posto in un immobile che andremo ad acquistare, grazie al contributo del bando Cariplo, andremo ad acquistare nelle prossime settimane a Lodi, in zona Albarola. Sarà un immobile che potrà capiente a sufficienza e potrà avere il magazzino per lo stoccaggio di generi alimentari, potrà fare l'emporio solidale, potrà fare gli uffici della fondazione e portare avanti le altre attività. Una fondazione che è assolutamente aperta, cioè si chiama Di Partecipazione, proprio perché ha nella sua apertura agli enti del territorio il suo focus principale. I quattro ambiti che ho detto sono ambiti molto ambiziosi, che è difficile essere capaci di coprire con le competenze che anche soltanto i cinque attori, i soci fondatori hanno. Quindi l'auspicio è che tutte le professionalità, le capacità, le risorse di capitale e di professionalità, e di capacità umana e di solidarietà che ci sono sul nostro territorio possano convergere nella fondazione per partecipare alla fondazione nel perseguimento dell'obiettivo, non per snaturare se stessi, ma per partecipare insieme ad un obiettivo comune, di bene comune.